Tornano a lavoro gli operai sul cantiere di via Agnello Vitale nella frazione di Pregiato. Nei giorni scorsi infatti sono riprese le operazioni per il completamento dei lavori che interessano la realizzazione e la messa in sicurezza della variante prevista sulla strada provinciale 360. L'intervento, finanziato per un importo totale di quasi 1.500.000 euro, era cominciato già nel gennaio del 2014, ma nel corso degli ultimi due anni era stato interrotto più volte a causa di un contenzioso aperto dalla ditta esecutrice per il mancato saldo dei pagamenti. La situazione era da mesi sotto la lente del gruppo Fratelli d'Italia, visto l'interessamento non solo del consigliere comunale Clelia Ferrara, ma anche del deputato Edmondo Cirielli, il quale, proprio quando furono avviati i lavori, era presidente della provincia e aveva elencato tra le priorità dell'ente l'ultima azione della variante in via Vitale alla strada provinciale. Cirielli, su sollecitazione di un altro ex assessore metelliano, Tania Lazzarotti, aveva provveduto inoltre a contattare il procuratore della Repubblica di Nocera Inferiore, Gianfranco Izzo, affinché i cantieri venissero riaperti quanto prima in modo da risolvere il rischio per l'incolumità pubblica. I lavori, infatti, hanno determinato un restringimento della carreggiata, che impedisce il passaggio di due automobili dirette in direzioni opposte e spesso i residenti avevano rischiato di essere investiti anche a causa della scarsa illuminazione del tratto. Si va quindi verso il completamento. L'intervento prevede la realizzazione di una bretella di bypass che collega un tratto di via Ferrara su via Vitale di lunghezza complessiva pari a circa 160 metri, in modo tale da isolare la zona critica caratterizzata da un tornante con visibilità in curva assai limitata.